Sì, vola! Ciao a tutti, lui è lui E lei è Sofì E insieme siamo in me contro te In aeroporto Guardate, oggi noi ci troviamo Siamo in un vero e proprio aeroporto E siamo pronti per prendere l'aereo E andare via A viaggiare oltre le stelle e l'infinito Lui, adesso è arrivato il momento di dirtelo Ti dico qual è la nostra destinazione Qual è la nostra destinazione? Sei pronto? Andiamo a New York New York, ma è bellissimo Allora corriamo, andiamo dentro Andiamo, andiamo Ci sarà un volo, un po' lungo Perché già ti dico sono più di 10 ore Però ci divertiremo un sacco Entriamo Qui c'è la porta scorrevole Guarda che bella Aspetta, la voglio provare bene Sì, ma sembra il momento Abbiamo a fare i controlli Guarda che l'aeroporto non è mica un Luna Park Bisogna fare un sacco di cose Ma di certo non giocare e divertirsi Hai ragione, scusami Allora, per prima cosa Quando si va in aeroporto per partire Bisogna fare il check-in Ovvero con i biglietti che sono comprati Bisogna prendere il proprio posto in aereo Vieni qua, lui Mettiamoci in fila Vieni Ok Dobbiamo anche consegnare la valigia Ma non c'è nessuno a fare la fila Dai, siamo fortunati Arriviamo subito Salve Salve Mi dica signora Ma non funziona mica così Che tu prendi il posto della signorina Aspetta, no, no, no Stavo pagando Non so che cosa Tipo la multa Vabbè, intanto Lasciamo i nostri bagagli Sì, infatti Lasciamo i nostri bagagli Già, perché una volta fatto il check-in Si lasciano i propri bagagli In questi rulli Che praticamente scorrono dentro E attraverso questa parete Poi per una serie di cunicoli E tappeti rotanti Finiscono fino in aereo Lui, mi dispiace Qui mi nega l'accesso Non posso lasciare la valigia Perché non c'è la signorina Vabbè, vorrei dire Che terrò la valigia in mano Però aiutami quanto meno È pesantissima No, non ci posso fare niente Peggio per te Che hai portato tutti quei vestiti Se devo essere sempre carina alla moda Mi che colpa mia Effettivamente sei vestita molto alla moda Grazie Dopodiché si va qui sul tabellone E si controlla il proprio volo A che ora parte E da quale gate va via New York Parte dal quarto Numero 4 Andiamo, corriamo Lui perderebbe il volo Ok, corriamo Mi sento, mamma Ho perso l'aereo Kevin Dobbiamo prendere le scale mobili Lui, attento Non cadere No, io non cado Al massimo come l'altra volta Mi cadono le valigie dalla scala mobile Avete visto il video In cui gli sono cadute le valigie Già Non ho bisogno di ricordarlo troppo Lui ci vuole il biglietto Ce l'hai tu? Sì Si fanno passare i biglietti qua Si scannerizzano Ok Possiamo attraversare Ehi Ehi Non possiamo attraversare Lui Sopri perché? Non ci vuole passare Cos'hai combinato? Ehi niente Forse i biglietti non sono validi? Lui sei sempre un combina guai Ma che cavolo Aspetta Dobbiamo ritornare al check in Corri Perderemo il volo Io lo so Volevo andare in America A vedere tutte quelle cose bellissime Invece Per colpa di lui Che dimentica sempre tutto Non è mai possibile nulla Perché hai una valigia Lui? Perché hai un'altra valigia Che non è tua? Dove l'hai presa? Vieni Vieni con me Seguimi 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 È la mia valigia L'avevo da parte E non si vedeva Dobbiamo mettere il bagaglio qui Altrimenti Ecco hai visto? Adesso non ci danno il biglietto E io posso entrare? Devi prima prendere il tuo bagaglio Potevi dirmelo prima no? Lui basta Non c'è altro tempo da perdere Dobbiamo provare ad imbarcarci Altrimenti non voleremo Rimaremo a casa Magari adesso abbiamo il biglietto Proviamoci Oh no Lui non possiamo entrare neanche adesso Allora C'è scritto sopra Che dobbiamo prima fare il check-in Nel banco Ma Non c'è nessuno al banco dei check-in Lui Io ho un'altra valigia Ne ho due adesso Ma come che c'è la valigia Se mi vorrebbe più una? Non lo so Non lo so Vabbè Scendi con me Scendi con me Dobbiamo trovare qualcuno Che ci fa sto cavolo di check-in Magari si fa qui Ecco C'è l'ho fatta Ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta Ma ce l'hai fatta per davvero Oppure è poco fa Mi è ingannata Ce la sto facendo davvero Allora sono davanti il banco Per fare i check-in Per fare i biglietti E qui c'è scritto Che possiamo selezionare La classe economy La business La prima Oppure addirittura pilota Possiamo pilotarlo Pilota Ma come pilota? Voglio pilotare l'aereo Lui Sì vabbè No 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 Io direi Prima Classe Come abbiamo fatto Quando siamo andati a Dubai Prenoto qui il volo E devo pagare? Ma devo pagare con soldi veni però Ma il viaggio è su Roblox Allora facciamo l'economy ok? Ma cavolo l'ho comprato Hai comprato la prima classe? Ho un biglietto comprato per la prima classe Aspetta Aspetta che compro anch'io il mio In teoria dovrei adesso Avere il biglietto per la prima classe Anch'io ho comprato il mio Per la prima classe Oh yes Ma siamo pazzi? Andiamo noi Non ce ne pentiamo Sarà un viaggio dimenticabile Dai dai Verso New York Oltre Spero che adesso funzioni Ehm Mi chiedi scannerizzare il biglietto Ma siamo veramente dei tontoloni Abbiamo preso i biglietti Adesso dobbiamo fare il check in Dobbiamo andare dalla signorina Guarda c'è la signorina Hai ragione lui Ma abbiamo fatto avanti e indietro Non so quante volte Siamo proprio legati per partire Aiutatemi voi Abbiamo dei biglietti in prima classe Che non possiamo utilizzare Ok ok Ce l'ho fatto Ho fatto il check in Mamma mia Mi sembra Come devo fare? Lui spiegami come devo fare Allora vai sul bancone Vai davanti il bancone Sì Ecco dovrebbero a questo punto Dirti qual è il gate Vabbè non dicono niente Dai dai Gira e fa attorno il bancone Dovrebbe succedere qualcosa Non mi dice niente Lui Eh vabbè seguimi Seguimi dai Secondo me funziona adesso Vabbè l'ho bloccata Io già lo so Rimano bloccata In caso io parto Lui mi dispiace Io devo andare Partiresti senza di me Sì E che cosa ci posso fare? Lui questo non te lo permetto Perché il viaggio L'ho pensato io Allora scannerizza il tuo biglietto Come il biglietto da me Non mi fa scarilizzare niente Ma quando ho giocato con bug Ti propongo di chiedere Agli altri passeggeri Come fanno Meglio come glielo chiedo Agli altri passeggeri Come fanno Sembra un escape room Non è più diventato Una partita normale Adesso mi sto arrabbiando Signori Ho bisogno dei biglietti Datemi il cavolo di biglietti Aspetta lui Forse ho capito Per entrare Sei riuscito a passare? No Allora provo Nell'altra scala Magari noi abbiamo L'ingresso da un'altra parte Vediamo Le prego fa che funzioni Da questo lato Non funziona Non funziona Ho pure pagato i soldi Per prendere i biglietti Noi rimarremo qui In aeroporto bloccati Tra l'altro Siamo nella parte dell'aeroporto Bruttina Se magari fossimo Nella parte con i negozi Sarebbe tutto molto più divertente Perché potrei fare un po' di shopping Benissimo Abbiamo preso i biglietti Abbiamo fatto il check-in Adesso Ci siamo riusciti Finalmente Sì 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 Ok Biglietto alla mano L'hai preso? Scanneritalo Sì Siamo passati Siamo dentro Sì Siamo dentro Non ci posso credere Siamo pronti per partire Finalmente Aspetta che riposo il biglietto Prima che lo perdiamo Wow Guarda Possiamo usare Queste specie di scale mobili Piatte Proprio come nella realtà Perché accelerano il percorso Perché dobbiamo sbrigarci Lui abbiamo perso Fin troppo tempo Facciamo un giro di qua Vediamo cosa c'è Ci sono dei negozi Come un aeroporto vero Potrei fare un po' di shopping Guarda Ti servirebbe una borsa nuova Ah no 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 E delle scarpe Assolutamente no E poi dei vestiti nuovi Eh sì vabbè però Andiamo via per ora Non dobbiamo spendere soldi Perché già abbiamo pagato I biglietti Che sono costati tantissimo Hai ragione hai ragione Basta non spendo soldi Seguimi con tutti questi bagagli Che c'hai addosso Dobbiamo andare al gate Lui dobbiamo fare i controlli Ecco qua Pronto per i controlli Allora devi piazzare Intanto i bagagli Proprio lì Ok Possiamo passare vai Sì Non avevamo nulla Che ha suonato Ottimo Non avevamo liquidi Devi riprendere il bagaglio Ah sì giusto Ok Lo stavo quasi dimenticando Passiamo da qui E vediamo se ci fanno passare Sì perfetto Non ci hanno fermato Non ci hanno controllato Meno male A questo punto siamo pronti Per metterci sulla navetta Che ci porterà Dritti dritti In aereo Non vedo l'ora Lui Il nostro volo sarà stupendo E poi arriveremo lì A New York Ma tu sai parlare inglese? No per niente Come no per niente? What's your name? My name is Tanino Tanino Allora stendiamoci E aspettiamo che parte il trenino È andato Ma se ci stiamo muovendo Ci lascerà davanti al gate Dove finalmente potremo Salire sopra il nostro aereo Ma è assurdo Non c'è il proprio reale È stupendo Mi sento veramente lì Stiamo per arrivare Ma guarda c'è il mare sotto di noi Che strana navetta Già Questo è un aeroporto Su qualche isola sicuramente Saltiamo Dai lui Siamo pronti per uscire Dai pronta Non ti dimenticare i bagagli No 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 Benissimo Usciamo Aspetta Sono uscito dal lato sbagliato Qua c'è il ristorante Ah no 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 È giusto è giusto Di qua di qua di qua Allora prendiamo queste scale mobile Così andiamo più veloce Anche se non sono scale Quindi come si dovrebbero chiamare? Pavimento mobile Lui però mi sono accorta Che è tardissimo E lo so che è tardi Ho fatto lo sguardo All'orologio E sta per partire il volo Praticamente sta per andare via Adios Ciao ciao bye bye Lo capisci o no? Eh sì sto cercando di capire Però qual è il volo Perché forse È di qua che ci dobbiamo imbarcare Sì 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 C'è una signorina Che aspetta noi Sì siamo dentro Non ci sto credendo Signorina signorina Dobbiamo andare Dobbiamo entrare Ciao 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 No no aspetta aspetta Dobbiamo prima controllare Che sia quello giusto Altrimenti potremmo imbarcarci Su un altro aereo Non voglio mica certo quello Vogliamo entrare Lui non vorrei Che il volo sia partito Senza di noi Dobbiamo arrivare Visto che ormai Siamo in ritardo È andato via Aspetta aspetta Forse arriva qualcuno Ma ragazzi Questo lo scopriremo Nel prossimo episodio Riusciremo a partire Soprattutto quale sarà La classe dove saremo Sarà la prima classe O l'economy Noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video Ciao